cosa stai facendo buongiorno della romea siamo fermi perché perché non ci muove niente quindi ne approfittiamo e ci facciamo due belli paninozzi c'è una coda di dicono di 7 chilometri non sappiamo il perché guarda che buono pane da tramezzino formaggio prosciutto di parma melanzane e peperoni ottimo pure il caffè pronto è adesso anche basta andiamo verso le pali che bel rumorino di qua poi non si vede niente in realtà un posto camper meraviglioso il problema è il rumore del ponte veramente buono adesso è stupendo un posto camper un posto camper Un weekend dedicato al totale relax, andiamo ad osservare i fenicotteri rosa in volo, venite con noi? No, 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 no. Siamo arrivati alla stazione Focce di Valle di Comacchio, punto di partenza per ammirare panorami di questa meravigliosa valle di protezione speciale per conservazione degli uccelli. Grazie. 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 Eccolo, eccolo, guardalo. Grazie. 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 richiesta ecco le molecche dove vai dove vai dove vai stai qua dentro bellissime è bello largo è e questa è bellissima vista su chioggia stupenda uscita privata uscita privata verso questa meraviglia guarda che bello è veramente bello guarda la chioggia è laggiù in fondo sotto marina qui di fronte invece questa è la passeggiata lungo la laguna come chiamarla veramente molto bello si può andare anche con la bici in realtà l'uscita privata con la bici fai giro abbiamo la bici ma abbiamo optato per la camminata un po' 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 un ma non è male, è privato è privato si ce l'ha guarda, guarda, ha ripreso nell'acqua adesso, calma no, no, calma va bene, va guarda guarda, guarda vabbè 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.